Buongiorno, buongiorno amici di Non Aprite Questo Blog, come vedete ho già fatto sbagliato a mettere la schermata Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Non Aprite Questo Blog Grazie per essere qua, oggi live speciale dedicata al bellissimo film Halloween di John Carpenter 1978 con Davide Di Giorgio, adesso vi racconterò chi è Vi introduco subito Davide che per lui ha un ritorno qua sul canale adesso cambio la schermata Eccoti, ciao Davide, attiva il microfono Ciao, ciao Gonzo Ciao, come stai? Bene, bene Bene, bene Dicevo, è un ritorno qua, sono contento perché spesso dico poi ci rivedremo, ci rivedremo, ma non tutti tornano per sbariate ragioni però sono contento perché ci siamo andati un appuntamento tempo fa dopo che abbiamo parlato della saga di Halloween dove tu, visto che sei, insomma, sei un fan accanito e te la sei studiata per filo e per segno sei molto esperto e ci hai aiutato un po' anche a mettere insieme la confusione che c'è, no? in questa saga come ti senti con questo ritorno di Halloween così, insomma, la trilogia, un 4K che è uscito? sei contento? beh, è sempre piacevole, è come tornare a casa è un po' come tornare bambino, perché per anni non hai visto niente no, non usciva niente cioè sì, poi invece escono trilogie nuove, 4K, rimasterizzazioni rivalutazioni di tantissimi registi, tra cui Carpenter questa è la cosa che mi fa più piacere e devo dire anche che mi stupisce di più perché ricordo quando eravamo in Quattro Gatti ad Amarlo certo, certo poi tu comunque eri addicted perché te lo studiavi nel... eri un po' uno stalker di Carpenter io lo amavo però non ero così addicted però mi ricordo quando da ragazzino avevo visto Distretto 13 la prima volta queste cose qua ed ero gasato, sì, mi piaceva io volevo far capire un po' chi sei allora, tu hai scritto un libro insieme a un altro autore dedicato alla saga di Halloween i primi, ricordami quanti film sono perché sai che io... dieci dieci film e quindi adesso stai lavorando a un nuovo libro? così, spoiler o... no? no, no, ai prossimi dieci ah, ok, ok, bisogna vedere se ci siamo ok, poi vabbè, sei un critico cinematografico, scrivi di cinema, eccetera e in più sei anche l'organizzatore, insieme a me, penso ad altri tuoi collaboratori del Monster Tarantaro Horror Film Festival sì, sì, insieme a Massimo Causo che è anche il coautore del libro eh, ok, quindi deduco che sia un tuo caro amico, immagino, insomma beh, sì, siamo una squadra, abbiamo l'associazione, io, lui e Leonardo Gregorio che è un altro critico eravamo tre amici al bar in questo caso e abbiamo deciso di fare un festival beh, avete fatto bene anche perché io ho potuto seguire la versione, diciamo, covid edition che molti festival sono, diciamo, secondo me hanno fatto bene, avete fatto bene anche voi insomma, per non spegnere l'entusiasmo di fare un'edizione online quando c'è stato il lockdown e lì poi ho scoperto, io ne volevo parlare alla fine, ma ne parliamo alla fine ho scoperto anche un film molto bello di cui parliamo dopo che non è ancora, non si sa niente eh, allora, partiamo da eh, intanto ringrazio tutti quelli che sono arrivati in chat scusatemi se quando c'ho l'ospite seguo un po' meno la, la, la chat ma se donate e se supportate i regandamenti state tranquilli che avrete la mia attenzione comunque, eh, partiamo da una cosa figa che è successa proprio in questo periodo eh, si è stato contattato da una bellissima, insomma, che noi stimiamo etichetta di film horror italiana nata da qualche anno che è la Midnight Packer eh, per fare che cosa, esatto vedete anche la fila lì, la collezione di Cofanetti per fare il, per occuparti editorialmente, diciamo, redazionalmente, anzi, del libretto questa è l'edizione, la faccio vedere Steelbook 4K del primo film di così mi aiuti anche a capire le versioni che ci sono dentro e tu lo sai che è, io sono un appassionato ma sono anche un gran confusionario eh, edizione Steelbook con una cartolina tra l'altro, ti è piaciuta questa scelta della, della Boost, non lo so come chiamarla Box Boost sì, sì, vabbè, è abbastanza in linea con i loro standard, l'hanno usata anche per le altre loro Steelbook sì, sì, però precedentemente invece vuole avere quello pulito, altrimenti lo puoi osservare così eh, comunque all'interno c'è il librettino di cui tu hai scritto il testo descrittivo che cosa, che cosa intanto voglio chiederti com'è stata l'esperienza e che cosa volevi fare qual era il tuo obiettivo quando hai iniziato a scrivere? ah, diciamo è nato dal fatto, da una battuta in realtà di tanto tempo fa quando uscì l'altra versione di Halloween della Mini Factory che non so se, questa è una cosa che veramente ricorderanno in pochissimi, ma c'è stato un momento in cui non si sapeva se ci sarebbe stato il commento audio di Carpenter o meno perché le prime comunicazioni dicevano che non c'era poi che invece c'era allora, parlandone con loro io feci la battuta e dissi dai, ve lo faccio io il commento audio perché ho scritto il libro allora, hai anche scritto il libro sei proprio un esperto questo è successo sui social, no? questo è successo per telefono per telefono, ah ok per telefono, ok perché comunque ci sentivamo perché l'intervistavo per tv di web all'epoca certo, quindi bisogna cioè, il fatto è che poi ci sono anche delle cose preziose, no? in giro per il mondo come appunto delle collaborazioni che possono nascere che però se non si sanno poi non nascono quindi in questo caso è andata è andata bene così e a me piace molto come hai scritto il libretto grazie vorrei farti dire a te che qual era l'obiettivo del, cioè ovviamente i libretti si possono scrivere in mille modi diversi tu cosa ti sei prefissato perché avevi comunque un numero ridotto di cioè avevi un limite, no? sì, sì, diciamo loro mi hanno dato completa libertà l'unica cosa era rispettare il numero di battute standard che questi libretti contemplano e naturalmente c'era il problema di non scrivere quello che c'era già nel precedente booklet per cui diciamo queste erano le due limitazioni tra le quali io mi dovevo per esempio il precedente booklet era ricco di dichiarazioni di John Carpenter quindi ho dovuto completamente eliminare questa parte e scrivere tutto di mio pugno diciamo l'obiettivo è diciamo io sono un appassionato di un video si vede anche dietro e di booklet in particolare perché ritengo che i booklet possono essere veramente quello che tiene insieme tutto il comparto degli extra perché quando ci sono gli extra diciamo in un certo qual modo tu prendi quello che c'è però magari gli extra fra di loro non legano e invece il booklet potrebbe servire a dare la visione di insieme quindi da questa considerazione è nata la seconda parte del booklet in cui ricostruisco tutta la cronistoria produttiva di Halloween fantastico e poi c'è la prima parte che in un certo qual modo è quella obbligata che è quella un po' più chiamiamola critica in cui fai un po' più un'analisi del film io farò la stessa cosa perché stiamo andando mi piace perché stiamo andando a braccio partendo dal libretto e quindi il mio compito sarà fare quello che tu hai fatto per l'edizione perché mi piace come la stiamo prendendo quindi noi comunque oggi faremo questa cosa parleremo del film per chi non lo cioè tutti lo conoscono ma bisogna anche sottolineare alcuni aspetti importanti di questo film e quindi faremo quello poi parleremo in una seconda parte di la nuova trilogia di David Gordon Green in modo anche più da fan anche diremo il nostro parere di gusto anche non solo di logicità di quello che accade e poi vabbè niente questo è un po' l'andamento stavi finendo un discorso se no ti faccio una domanda proprio su quello che hai scritto dentro no dicevo poi la prima parte è la parte un po' più critica che è quello che più o meno tutti si aspettano da un booklet e diciamo anche lì ho cercato un equilibrio perché a volte si tende a fare un po' troppo gli originali invece bisogna rimanere un po' su quello che il film ti vuole dire però ho cercato una chiave non così scontata parlando appunto del rapporto con l'infanzia per chi ha letto certo tra l'altro tu prima hai detto io non potessi come molte dichiarazioni di Carpenter hanno già state utilizzate ovviamente non le ho ripetute e mi piace questa cosa perché tu in realtà hai messo una bellissima frase di Dario Argento dentro che è una frase che sembra una frase sciocca in realtà è ricca di cose stra-intelligenti che riassumono il film in un modo incredibile perché lui dice tu hai scritto che lui dice fantastico semplice la macchina da presa va e va racconta il volto da Giovanni Senna Jamie Lee Curtis cioè la semplicità è la prima cosa da cui voglio partire su questo film cioè gli slasher esistevano già come tu hai ricordato e comunque molti lo sanno chi segue loro lo sa ma perché proprio lui è diventato così tanto iconico dello slasher si è quasi preso il trono di questo genere con questo film ma credo che i motivi siano sostanzialmente tre il primo è che è molto semplice quindi è molto diretto e arriva a tutti il secondo è che comunque non è un assassino generico intercambiabile tra i vari film ma ha una sua minima caratterizzazione che poi è una caratterizzazione iconografica appunto più che non ha un carattere in quanto tale e poi il terzo è stata l'idea geniale di legarlo alla festività di Halloween per cui c'è questo con dei vasi comunicanti in cui le due cose si valorizzano a vicenda sembra quasi una ricetta che ti viene un po' per genialità un po' per caso e che inventi diciamo il piatto che ha successo il piatto perfetto il piatto perfetto sì sì molto la frase dell'argento comunque se posso dire viene dal librone di John Carpenter scritto da Giulia D'Angelo Vallanne Roberto Turigliatto per la retrospettiva che il Torino Film Festival dedicò nel 1999 a John Carpenter faceva questo bellissimo libro di Lindau che invito tutti a recuperare non so se sia ancora a catalogo se non lo è cercatelo perché è grosso ed è bellissimo certo tra l'altro aspetta adesso fare un po' tra i miei appunti o saltare da uno all'altro perché i discorsi sembra veramente un flusso di pensiero hai parlato di hai parlato di carattere di Michael Myers che non è tanto esplicitato perché ci sono pochi momenti in cui noi vediamo e lui fa delle cose particolari per esempio è giocoso in certi momenti è quasi spiritoso quasi proprio dolcetto scherzetto e è molto bello che tu abbia cosa che mi piace molto nel cinema anche se io e te probabilmente io non so tu però non siamo psicologi però diciamo esatto però comunque trovo bello che comunque si cerchi la psicologia nel cinema perché io vedo questo film proprio per la sua semplicità come una macchia di Rorschach cioè una sorta di opera così istintiva che poi dentro tanti possono vederci tante cose quindi è veramente forse affascinante e profondo proprio perché non ha dei limiti no? cioè molto e tu hai parlato di psicologia molto bella la parte in cui comunque associ un'infanzia rubata quasi no? perché c'è Myers finisce subito insomma molto giovane commette un omicidio e finisce subito in cerco di non spoilerare però sai è un cult quindi finisce subito in un ospedale psichiatrico per bambini insomma viene rinchiuso e la sua infanzia viene rubata e quindi lui quasi uccidere il gioco no? è quasi quando lui esce poi è quasi come rimettere risimulare il momento del gioco dello scherzo del e ci sono c'è lui che si mette il lenzuolo ci sono un po' di cose di questo tipo infatti sì sì diciamo poi anche al di là della psicologia diretta di Michael Myers proprio è l'approccio che c'è stato verso il film che è così cioè è un film che gioca a spaventare c'è anche il momento in cui Loomis che è un personaggio serissimo si nasconde dietro la siepe e spaventa i ragazzini che sono vicinati alla casa cioè è un enorme gioco cioè è John Carpenter che si sta divertendo a giocare con la paura in tutte le fasi del film e la cosa bella anche qui come vasi comunicanti tanto più gioca tanto più fa paura questo è il classico film soprattutto parlandone con te anche leggendo il libro in cui mi viene da pensare che la genialità di un regista viene proprio fuori nella semplicità con cui lui fa le cose e nella non progettualità in realtà cioè tutta questa psicologia è inserita nel film in modo assolutamente spontaneo e non calcolato a tavolino perché appunto anche per Carpenter è un gioco è il gioco della paura quindi è molto bella questa cosa qua beh lui è maestro proprio nello sfruttare anche appunto quello che non viene detto cioè per dirti il mio film preferito di John Carpenter in realtà non è Halloween ma è la cosa per esempio anche lì c'è una cosa su cui nessuno ha mai notato su quel film perché tutti con gli effetti speciali tutto quello che si vede ma in realtà ancora più straordinario è quello che non si vede cioè noi non vediamo mai l'alieno com'è la forma zero tutte quelle trasformazioni che vediamo sono le trasformazioni intermedie fra una forma e l'altra ma non sappiamo com'è quindi c'è tanto che si può inventare sopra anche lì sì c'è una sfuggevolezza in tutti e due i film cioè sia nella cosa perché non sai la vera forma di questo essere e c'è una sfuggevolezza anche in Myers perché poi ha dei comportamenti particolarissimi Myers come appunto quello dello stalker perché gira con la macchina e fa cose è molto difficile da definire in effetti poi dopo ti sorprende con il travestimento la lapide sul letto oppure la scena dove appende diciamo con una coltellata e come un bambino guarda la sua opera la sua opera diciamo perché se li sta giocando in un certo valore esatto esatto io adesso ti metto in difficoltà secondo me magari non ti metto in difficoltà ma giusto ieri ho notato no ieri l'altro ieri che ho finito di rivederlo per l'ennesima volta ho notato che quando lui passa con la macchina e ci sono queste tre ragazze che parlano una di queste è Laurie Strode loro dicono ah quello è David Green no non è uno scherzo citando un personaggio che non mi sembra sia citato precedentemente quindi tipo un vicino di casa un compagno di scuola un compagno di scuola proprio più probabile la cosa che mi ha impressionato è che la nuova trilogia è diretta da David Gordon Green che all'epoca poteva avere anche boh tre, quattro, cinque anni non lo so questo è un po' come in following il primo film di Christopher Nolan che sulla porta c'è il simbolo di Batman che lui avrebbe diretto i Batman poi tanti anni dopo sono delle coincidenze incredibili del cinema coincidenze incredibili che aggiungono uno ancora più questo però io non l'ho mai sentito dire a nessuno quindi è una mia scoperta mettiamo il copyright no sto scherzando probabilmente se ne saranno accorti diecimila però aggiunge aggiunge mistero a sta cosa non trovi? tu me com'è che ha scelto adesso non voglio solo una parentesi com'è che l'ha scelto David Gordon Green ho detto wow ma ti chiami come come avevo chiamato quella battuta lì allora fai tu il film credo che sia un po' più complicato di così sarà sempre comunque con Carpenter che ha tutto il nostro rispetto è sempre una questione di soldi questo lo sappiamo bene come ragiona lui e secondo me fa bene perché lui domina ha cercato sempre di dominare il mercato perché sa che solo così può mettere la sua vera voce poi nelle opere se lui non si mette a fare l'uomo dedicato al cash al denaro quindi l'uomo d'affari poi sa che non comanderà nulla nell'ambito della creazione del film faccio una parentesi per la chat se volete fare delle domande a Davide perché a me me ne fate troppe e io non ho le risposte se usate il messaggio in evidenza meglio così lo vedo allora torniamo invece dopo la parentesi di Gordon Green tra l'altro la cosa si vede anche nel si vede già dentro al televisore quando guarda Laurie Strode il bambino a cui fa la babysitter guardano la tv tipico no la babysitter il bambino che vuole vedere il film horror proprio la sera di Halloween e guardano la cosa quello degli anni 50 adesso non ricordo esattamente la data 51 51 è lì e c'è anche lì è come dire io voglio fare questo film lo aveva già detto poi non è passato molto in realtà no infatti no però non lo sapeva allora ancora che l'avrebbe dovuto fare parentesi brevissima perché mi interessa abbiamo avuto una gestazione lunga la cosa dico infatti io ho girato Fugara New York in una pausa di lavorazione della cosa però ai tempi di Halloween ancora non sapevo che l'avrebbe dovuto fare parentesi brevissima perché mi interessa parlare anche di Carpenter visto che il film è tanto di lui cioè Halloween lo si ama proprio perché di Carpenter anche lui ha voluto rifare la cosa perché come tutti i grandi registi da piccolo è rimasto impressionato mi ricordo che una volta disse che proprio si era spaventato tantissimo alla visione di questo umone verde non so se questo una tuta aveva non fa paura per niente però vabbè per l'epoca poteva fare paura poi sai i bambini erano più sensibili rispetto a quelli di oggi la cosa che mi poi diciamo il film è costruito bene come tensione al di là sì sì quello è vero quello è vero al di là e forse è proprio quello che c'è talmente tanta tensione che poi qualunque cosa fosse uscita da lì anche il Gabibbo avrebbe spaventato forse quindi lui però non lo fa uguale al film e questo mi ha sorpreso non lo fa uguale al film del 51 lo fa qualcuno forse è corretto dire che lo fa più simile al libro da cui è tratto sì sì assolutamente sì leggere il libro è una vera scoperta perché anche i nomi dei personaggi sono gli stessi c'è la scena del sangue del test del sangue infatti io personalmente non lo considero un remake un po' come i vari Dracula considero come due diverse trasposizioni dello stesso romano mi sembra mi sembra ragionibile come cosa beh diciamo lui fa una cosa che secondo me è intelligente che dovrebbero fare tutti anche se oggi nessuno fa cioè se ami tanto un'opera e la vuoi rifare è meglio che la fai diversa sì è meglio che non fai la copia perché a quel punto ti poni in competizione diretta in questo caso essendoci anche il romanzo che era diverso dalla prima versione è stato anche più facile diciamo che ci sono sul tema poi si sono espressi in tanti registi così a qualcuno dice o lo rifai proprio come dici tu oppure perché ritieni che si è fatto talmente male e ha un potenziale migliore allora lo rifai meglio ci sono anche dei casi del genere probabilmente di film che non sì però diciamo che l'onda di remake che dal 2000 a oggi si sta un po' perseguitando quasi nessuno ha fatto meglio sì perché sono troppi diciamo che statisticamente è impossibile perché poi si concentrano più sul business se la motivazione è rifarlo perché fa soldi chiaramente il rischio che venga male è alto in realtà cinicamente verrebbe da dire che la motivazione è sempre quella cioè il remake della cosa di Carpenter sta all'interno di una serie di remake dei film di fantascienza degli anni 50 che sono stati fatti in quelli anni Top View che ha fatto Invaders poi è stato fatto Blob di nuovo quindi c'era un filone però poi lui da artista l'ha trattato in modo personale certo appunto non rifacendo il film del 51 adesso ti faccio una domanda difficile perché secondo me è difficile perché le interpretazioni sono tante Halloween come tanti film è uscito ed è stato giudicato non benissimo diciamo un po' tiepidamente anche male in alcuni casi poi da quello che racconta Carpenter dopo una lui attribuisce questa cosa a una sorta di ondata che è nata da una recensione migliore che chiaramente poi influenza anche gli altri tu come 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 la vedi questa cosa cioè il tema anche del del fatto che la critica non riesca a individuare forse anche per paura di andare contro di essere da sola a individuare questi film che sono oggettivamente dei capolavori dopo 20 30 40 anni diciamo qui vado un po' contro la categoria ma è una cosa che succede ancora oggi no ma fai bene secondo me perdonami perché la critica critica però deve anche autocriticarsi no in qualche maniera se no non è una cosa che si tende a fare però oggettivamente è così cioè è molto difficile giudicare un film quando esce capire diciamo l'impatto che avrà sul lungo periodo questo vale da sempre anche l'impero colpisce ancora all'epoca quando uscì fu considerato un sequel non riuscito di Star Wars eppure oggi è considerato il migliore di tutti gli Star Wars è un problema proprio di difficoltà nel vedere la prospettiva io ho questa idea qua poi chiaramente ha tutte le sue sfumature sono un po' dell'idea che la critica per quanto ha anche dotta e insomma intelligente si conformi un po' al gusto contemporaneo di quel momento quindi tutto ciò che è al di fuori di quel gusto fatica a essere considerato corretto in qualche maniera quindi l'innovazione a volte viene anche interpretata come che diavolo ha combinato questo cioè non è questo non è il cinema questo è e si sente spesso sta cosa verso gli innovatori diciamo quelli che semplificano oppure che sono lui per esempio è uno che semplifica ma all'interno di questo film ci sono un sacco di cose sofisticatissime a livello di movimenti di macchina fotografia sì diciamo partiamo da un presupposto molto semplice la critica non è una scienza esatta è un esercizio che sicuramente ha a che fare con una serie di criteri però poi diciamo è sottoposta anche a tutta una serie di variabili e infatti la cosa che io dico sempre è non seguite un critico come il guru che vi dice che cosa è bello e che cosa non è bello perché ci arrivate da soli che cosa vi piace e cosa non vi piace ma seguite il dibattito che la critica innesca perché da quello che da quell'esercizio che ci sia cultura insomma il rapporto con il cinema diventa più stretto e più articolato poi per quanto riguarda quello che dici tu è un po' per avere molti più occhi questa cosa che stai dicendo tu cioè non è non è guardare solo da un paio di occhi ma è molto meglio ma io sono d'accordissimo con te su questo ovviamente anche io che prima cosa di essere critico sono anche un lettore di recensione di riviste ho i miei nomi di riferimento però cerco di leggere un po' tutto perché a volte mi è capitato su film che a me non piacciono di leggere delle cose molto interessanti che comunque mi hanno arricchito culturalmente e quindi questa per me è la cosa più importante se il film mi piace o non mi piace è una cosa mia sì no poi tra l'altro io ti dico facendo questo in modo assolutamente autodidatta immatoriale io mi sono reso conto che negli ultimi anni sono cresciuto da questo punto di vista e ho apprezzato film che non mi sono piaciuti che è una cosa strana da descrivere per esempio Il potere del cane non so se è presente quello candidato all'Oscar è un film che a me non è piaciuto però lo trovo un film meraviglioso da un punto di vista cinematografico e del racconto cioè di una sofisticatezza incredibile e quindi ultimamente proprio perché penso che anche se non si smette mai di imparare qualcosina l'ho imparato mi sono ritrovato a scendere tantissimo tra il mi piace come gusto come emozioni che riesco a percepire perché poi penso che le emozioni siano anche legate al tuo momento cioè cosa ti sta capitando in quel momento della vita tu sa che sono i fattori di percezione di emozioni che un film ti può dare quindi sto scendendo molto e anche come dicevi tu questo forse è un po' strano magari io non concordi però oltre alla visione di più persone magari esperte di cinema sai che anche la visione di chi non ne capisce una sega a volte mi arricchisce perché mi interessa sapere come ragiona una persona che ha meno struttura dietro quindi mi interessa mi cerco cerco io di fare un passo in quella direzione quindi è interessante secondo me appunto io penso che rispetto invece a quello che dicevi tu sulla visione non seguite una persona e basta piuttosto possono servire delle figure di riferimento oggi per seguire un tipo di cinema ma non che ti dicono questo è bello questo è brutto ma che ti indirizzano verso un tipo di cinema perché c'è talmente tanta roba che esce che tu rischi veramente di guardare solo quello che Netflix ti mette in on page perché sei un diciamo un po' è un po' quello che succedeva nella televisione negli anni 80 sì sì assolutamente cioè eri un cinetilo che andava nel circolino come facevi tu con i tuoi amici e tra di voi in modo molto underground vi scambiavate le cose oppure la gente guardava quello che Canale 5 ti proponeva che che poteva essere attrazione fatale queste cose qua che mandavano sempre quelle sì no ma infatti alla fine è un'esperienza dove bisogna arricchirsi e perciò sicuramente poi man mano che frequenti il settore capisci chi realmente capisce di cinema e chi no per usare questa espressione però comunque credo che un po' tutto sia importante per formare un pensiero che poi alla fine deve essere tuo sei contento di questa edizione 4k io la faccio vedere un attimo perché bisogna anche pubblicizzare questi bellissimi prodotti perché il mercato dell'ombico un video deve continuare a resistere adesso assolutamente ovviamente questi sono ecco fammi capire un po' dentro c'è la versione theatrical la versione ultra hd vabbè che penso sia la teatrica che è sempre teatrica e poi c'è scusa non ci vedo da vicino la extended la extended è quella con le aggiunte le riprese fatte in seguito è quella lì? si sono quattro scene me la spieghi velocemente? scusami no in pratica quando Halloween passò in televisione fu tagliato anche se oggi fa ridere perché non è che c'è tutto sto sangue e tagliandolo la durata si riduceva e quindi non potevano mettere il numero necessario di slot pubblicitari allora chiesero di girare delle scene aggiuntive per poter ritornare a una durata congrua per poter mettere la pubblicità quindi questo è un esempio molto divertente di come il commercio alla fine ha favorito questo allungamento del film nell'edizione un video c'è l'edizione integrale del film in cui sono state integrate anche queste scene in più che comunque attenzione non è la director scat la director scat è quella cinematografica questa è un'edizione estesa con queste scene in più che tra l'altro in questo caso spesso invece noi vediamo edizioni dove finalmente vediamo la director scat nell'home video invece in questo caso la theatrical è già direttamente quella decisa questo fa capire anche come Carpenter interpretava la sua professione in modo molto combattivo cioè questa è tra l'altro il concetto di director scat è molto problematico nel senso che a volte ti spacciano per dire altro esempio classico è l'esorcista l'esorcista c'è quella che viene chiamata director scat che non è la director scat è la versione che voleva William Peter Blatt lo sceneggiatore su cui si erano scontrati quindi esistono queste due versioni anche in questo caso dobbiamo parlare di director scat cioè quella theatrical e di versione estesa quell'altra ho capito sì certo io mi interisco la director scat personalmente senza il finale alla casa blanca spoiler allora parliamo ancora un attimino poi dopo tra un po' passiamo anche alla trilogia visto che non hai tanto tempo no comunque mi hai chiesto cosa ne penso dimmi dimmi scusami di aver potuto partecipare per un fan comunque essere l'autore del libretto è una roba veramente fetish come fan poi appunto come amante dei booklet poterne finalmente fare uno io quindi dare la mia interpretazione del booklet poi diciamo la steelbook è bella l'effetto metallizzato quindi avercene e poi la prima edizione 4k che esce in Italia no vabbè anche la precedente ah no no sì sempre della midnight sempre della midnight sì sì l'edizione è uguale cambia il booklet la cartolina è più grande ovviamente cambia anche la confezione io scusa approfitto un attimo ricordo ancora in chat che se volete fare domande di evidenziarle e e poi chiedo a Giorgio di se mi può fare gli shout insomma so a chi ha il canale come andraste così se potete pensarci voi perché mentre sono in intervista così mi risulta un po' difficile e soprattutto ragazzi donate sopportate questo canale perché è importante insomma se si vuole portare dei contenuti minimamente culturali su Twitch e sulle piattaforme social eccetera mi raccomando pensateci guardate nella vostra coscienza cerco di fare l'involitore faccio anche un engagement per non aprite questo vlog che persegue la qualità no no poi io sono fiero di sono sono molto fiero di avere comunque diciamo un pizzico della tua stima non dico la tua totale stima nel senso che perché comunque tu sei una persona molto competente molto preparata quindi per me che comunque per quanto io ho delle delle conoscenze in ambito di comunicazione artistiche comunque ho studiato il cinema ma non ho diciamo tutto il percorso che ha un critico comunque per me stare in questo ambiente significa avere anche addosso tante critiche quindi a volte a volte fa piacere che qualcuno dica sì però comunque non è male come fai le cose quindi mi fa piacere ti ringrazio anche solo il fatto che sei qua per la seconda volta dimostra che qualcosa è di buono adesso finiamo di parlare io vi invito poi dopo Davide non può stare tutta la live che le nostre live sono lunghissime è comunque l'invitato a venire tu puoi venire quando vuoi Davide tu sai che io parlo di un film e dici oh ma posso venire dentro a parlarne anch'io per me mi chiami un secondo prima entri e mi fa piacere perché impreziosisci soltanto la live dopo ne fai una subem subem il cartone animato e dovrei rivederlo anch'io è un mio culto assoluto fra l'altro un piccolo momento per ricordare il maestro Nico Fidenco che ci ha appena lasciato che era l'autore della sigla sì sì no ma infatti guarda ti dico per me è solo un piacere anche perché comunque se tu conosci anche delle idee ritroscena delle cose legate alla storia di questi prodotti io li conosco da bambino che appena vedeva BAM in televisione era felicissimo e che non riusciva mai a vedere l'episodio dopo e la fine eccetera adesso l'ho comprata anch'io con l'edizione lì me l'ha regalata una tale in realtà quindi sì assolutamente segniamoci questo progettino di fare una live su BAM però lo devo rivedere in realtà devo rivederlo anche io lo vedrò così perché è una delle poche cose che mi terrorizzo è inquietante inquietante no finisco di dire che dopo la live io rimango qua continuo la live fino alla chiusura adesso parliamo un attimino finiamo di parlare di questa splendida edizione del film di John Carpenter parliamo poi un attimino dei tre film di David Gordon Green e poi anche un attimino di un festival molto bello a cui sono affezionato che mi piace che poi vi raccontiamo cos'è finisco con due o tre cose una è la Panaglide ti voglio voglio anche far sapere al pubblico che cos'è la Panaglide perché all'epoca uscì questa tecnologia che è quella che oggi tutti chiamano Steadicam perché la Steadicam vinse diciamo come distribuzione vinse però in realtà c'erano due apparecchiature per fare appunto quello che fa la Steadicam una era la Panaglide della Paramount e la Steadicam non mi ricordo di che altra società fosse ma era un'altra grossa la Panaglide venne usata per due o tre film e poi il quarto film mi sembra fu proprio quello di Carpenter Halloween e il direttore della fotografia con penso l'operatore dell'epoca andarono a fare un test che trovate anche online magari poi ve lo pubblico nel gruppo Discord punto esclamativo Discord se volete entrare e lì capite vedendo quel video capite quanto tutto ciò che oggi per noi è scontato in realtà all'epoca questi io mi immagino Davide questi che vedono le riprese dicono wow che cazzo abbiamo in mano c'è una roba fenomenale mentre oggi siamo addirittura lo stabilizzatore c'è anche nei cellulari oggi quindi è è tutto scontatissimo invece invece all'epoca avevano la possibilità di fare che cosa per lo più te lo faccio dire a te che magari è anche più con questa con questa Panaglide che poi è una Steadicam è la possibilità di fare queste lunghe inquadrature in movimento appunto in cui l'immagine rimaneva stabile che è la soggettiva poi di spesso nel film è la soggettiva di la soggettiva iniziale di Michael Myers che spia non solo mi sembra che venga usata a volte la cosa bella è che questa inquadratura questo movimento di macchina non è solo Myers che segue che guarda che spia che stalkera ma è anche lo spettatore che segue che guarda che spia che stalkera e che lo rende questo l'avevamo detto lo rende anche in qualche modo colpevole di ciò che accade quindi come una sorta di testimone complice un testimone che però zitto zitto e quindi questo crea ansia secondo me nello spettatore crea disagio quindi è molto importante poi c'è questa cosa geniale il fatto che l'immagine è ritagliata nella maschera nei buchi della maschera che tu normalmente non vedresti così perché la maschera si adatta perfettamente quindi vedresti comunque un po' tutto invece lì è veramente molto ridotto quindi davvero tu vuoi vedere cioè ti spinge proprio a voler vedere quindi ti stuzzica veramente ti viene quasi da spostarti tu fisicamente per fare questo gesto come per dire se mi sposto forse vedo meglio da quei buchi è vero l'effetto che fa è proprio quello è sicuramente uno degli aspetti tecnici tecnologici e artistici più importanti del film il secondo l'altro secondo me è importantissimo beh ce ne sono tanti si potrebbe parare per tre ore però l'altro importantissimo è la fotografia di questo film che è di un gigante ha fatto anche altri film importantissimi dopo questo ha fatto Roger Rabbit ha fatto Jurassic Park se non sbaglio per cui comunque ha lavorato con Spielberg non mi cosa era proprio Jurassic Park ma ha lavorato anche con Spielberg quindi poi è arrivato a livelli altissimi sì io guarda rivedendo poi nel 4k ti giuro non mi spiego come sia possibile che oltre a 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 bit grazie mille grazie a tutti quelli che sostengono la live sì Vitto è un grande fan di di Halloween non parla d'altro qualsiasi argomento discutiamo qua lui comunque parla solo di 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 l'endorsement di Sandy Johnson esatto no la cosa che mi ha impressionato è che tutte le volte che lo rivedo penso ma questo ogni scena è un è una fotografia proprio intesa come è una composizione fotografica e la luce è sempre perfetta nel senso che è una luce che parla è una luce che racconta delle cose al di là delle semplici luci per esempio io faccio capire che Myers arriva perché c'è l'ombra di Myers ma ci sono veramente tantissimi piccole micro racconti fatti dalla luce assolutamente sì nel brune che citavo prima c'è un'intervista proprio a Dean Candy che parla proprio anche del colore che doveva avere la luce la luce buia che deve avere una consistenza quasi azzurrina davvero molto interessante sì e io non non so se ci sono film di Carpenter che hanno questo livello qua di ispirazione che arrivano fino a questo punto come bellezza di fotografia perché è una fotografia che non è solo bella è anche una fotografia proprio legata molto al linguaggio cinematografico ma tra l'altro lui è un regista tecnico perché diciamo non tutti i registi conoscono le macchine e gli obiettivi perché molti hanno l'organizzazione del setting test invece lui è uno di quelli che conosce le macchine e gli obiettivi quindi ha un dialogo con il direttore della fotografia molto da pari a pari e quindi è una moltiplicazione di talento che porta i suoi film a essere visivamente molto belli cosa importante anche perché essendo film a basso budget potrebbero sempre sembrare poveri invece lo dice la moglie sempre nel librone sempre sempre che sono costati di più di quello che realmente sono costati perché c'è questa cura visiva il film è il signore del male molto curato visivamente è un film veramente fatto con pochissimi soldi un'altra curiosità poi chiudiamo magari il tema visto che non abbiamo molto tempo un'altra curiosità che tu mi sembra sottolineavi che mostra anche diciamo la strategia marketing che lui ha è la partecipazione di Jamie Lee Curtis che è figlia appunto di Tony Curtis di Janet Lake e Janet Lake è per chi non lo sapesse l'attrice modella che in Psycho spoiler muore dopo 20 minuti di film tra l'altro è un fatto che mi è sempre piaciuto lei quindi portare in un piccolo film slasher no in un piccolo film dell'orrore che erano molto snobbati all'epoca erano la spazzatura del cinema portare comunque però la figlia di quella che viene ammazzata nella doccia perché è più conosciuta come quella che viene ammazzata nella doccia che per il suo nome soprattutto in Italia è un po' una pubblicità per il film una pubblicità che lo rende un po' più fascinoso no? sì sì beh questa fu un'intuizione anche di Debra Hill la produttrice che da brava produttrice pensava che poi c'è quell'altro la compagna di Carpenter c'era questo questo rapporto creativo e amoroso molto produttivo molto bello poi Debra Hill mi ricordo che era morta anche ne avevamo parlato con pochi anni che è morta anche poveretta conosciuta anche lei un po' un peccato che il merito se lo prenda sempre il maschio no? è un po' un po' il retaggio della nostra società un po' 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 assolutamente stai vicino una roba? dicevo che poi c'è anche quelle altre cose che citavo nel libretto che hanno curato molto anche l'apparato delle foto sul set perché c'è la fotografa King Gottlieb Walker che ha fatto quel libro bellissimo un set with John Carpenter che consiglio di recuperare è un libro import dove sono tutte le foto dal set quindi grande è un librone perché immagino le foto siano stampate in grave deve essere bello sì ce l'ho nell'armadio magari lo posso anche tirare fuori se vuoi sì se vuoi sì se non è una roba di troppo lunga volentieri no allora se vi siete arrivati in ritardo eccetera questa live la troverete comunque su youtube insomma verrà rispammata vediamo è bellissimo è questo costicchia cos'è questo costa 30 dollari ah no è poco per un libro così bellissimo è un libro che potrebbe tranquillamente uscire in Italia la titan books magari lo farà la salda press che sta editando i titoli della titan books ma non è un'anticipazione perché proponenti per fare una prestazione allora vedi qui ci sono le foto eh ma stampate così è proprio bello sono ovviamente in bianco e nero ci sono anche delle foto ci sono anche i colori e nel librettino raccontavi che per poterlo poter scattare eh com'è che sì sì diciamo perché la foto venisse bene a volte Carpenter cedeva il posto dietro la macchina da presa alla fotografa per cui anche lì capisci come avevano già in mente tutto l'apparato intanto non si risparmia sul fotografo di scena non è una voce che viene tolta ma poi addirittura cercano di fargliele fare molto bene perché sanno che servono a prendere il film che è una cosa che non è che sempre adesso magari sì però adesso non è che girano tante foto di scena vero? beh sì ci sono ancora però all'epoca serviva anche per le fotobuste venivano date proprio ai giornali dentro le buste e diciamo in questo libro si racconta la carriera insieme di Kim Gottlieb Walker con John Carpenter su Halloween Fog Fuga a New York Halloween 2 Christine quindi insomma un piccolo endorsement per questo bellissimo libro bellissimo no no assolutamente allora io quasi quasi quello dopo mi informo perché il prezzo veramente certo bisogna vedere quanto costa forse lo spedire però è veramente basso io invito tutti a comprare questa edizione fantastica un po' di pubblicità occulta anzi non troppo occulta e se tu hai qualcosa posso dire una cosa con un piccola vena polemica vai vai ho visto un po' di unboxing su YouTube nessuno aveva notato che il Booklet è diverso quindi il Booklet è diverso e quando fate le unboxing controllate che il Booklet siano diversi quando si parla di riedizioni perché alcuni hanno anche detto il Booklet è lo stesso invece no è diverso no e poi capisco che poi a te possa infastidire visto che ma non tanto per me perché diciamo sai nel momento in cui stai proponendo un'edizione stai facendo un'analisi sforzati un attimo eh vabbè lo sai sono i pepe che corrono ma sì un po' di pepe ci sta anzi io spero che vengano a dissarmi perché io voglio lo scontro no a parte di scherzi ci sta perché comunque diciamo che c'è un po' di tutto in rete quindi c'è ci sono tutti i livelli di professionalità quindi a quelli che non lo fanno mi raccomando ragazzi un pochino di attenzione sulle cose basta poco e si fanno spavano bene perché voglio vedere com'è l'edizione quindi mi devi dire tutto non mi devi semplicemente spacchettare il film e farlo vedere com'è certo certo no no deve essere no vabbè è importante anche perché uno può decidere se comprare un'edizione piuttosto che un'altra in base anche a dei piccoli dettagli chiaramente assolutamente allora se c'è qualcos'altro che vuoi dire sul film o qualcosa di perché secondo me i punti salienti poi erano questi no le cose poi ci sarebbe da dire un sacco di cose meravigliose che l'hanno reso importante come appunto anche i dialoghi tu lo citavi mi sembra la semplicità comunque è stato già detto molto ci sono anche documentari nelle precedenti edizioni video ci sono dei bei documentari c'è c'è la puntata la su Netflix dei film The Movie That Made Us quelli degli anni 80 secondo me è orrenda salterei oltre mettiamo un altro po' di test altro diss ma va benissimo ma va benissimo salutiamo gli amici di Netflix sì sì intervistano solo il produttore che si prende tutto il merito del film e beh sì no questo non è molto corretto sì sì no mi rendo conto no vabbè comunque io ti dico personalmente non è una leccata di culo perché io sono una persona che dice le cose come stanno per me a me è piaciuto come hai scritto io conoscevo tutto quasi tutto quello che avevi scritto perché comunque già all'epoca e mi piace il fatto che una persona che non sa niente ma conosce benissimo il film perché tutti lo conoscono si faccia un'infarinatura sulle cose che sono veramente importanti del film proprio i concetti di semplicità tecnologici tutte quelle piccole cose che lo hanno piccole e grandi cose che lo hanno reso importante non solo famoso importante proprio quasi come una fonte di ispirazione per tutti gli altri quindi quello mi piace come hai scritto in modo chiaro per tutti semplice il concetto perché ma poi anche perché per quanto io lo faccia molto peggio anche io tendo a voler avere come scopo che le persone capiscano non tanto che si veda quanto io sono bravo a parlare di cinema che non mi interessa quindi mi è piaciuto tanto io parlerei un attimino di passiamo scusa scusa poi vedo che in chat la cosa sta avendo i suoi effetti perché giustamente Vittorio dice Yablans ha avuto i suoi meriti Daniel Ronfist ha una mania tutta americana quella dei produttori vogliono prendersi i meriti questa cosa magari va un attimo precisata sicuramente Yablans ha i suoi meriti per esempio è lui che è bell'idea di ambientarlo ad Halloween però da qui a dire che tutti i meriti sono suoi ce ne corre ed è vera questa cosa che in America il produttore tende a dire è tutto merito io l'ho fatto io però se Halloween è così bello se ha quella struttura visiva quella semplicità che diventa complessa è perché c'è stato poi un regista che ha avuto una visione si e poi insieme a questa visione anche ecco lui è famoso per avere collaboratori storici tra l'altro quindi è l'intelligenza di dire io ho questo questo montatore perché mi sembra anche che la montatrice sia no non è lui che è una montatrice storica è un montatore storico Tommy Lee Wallace che poi era diretto Halloween 3 quindi esatto esatto che tra l'altro secondo me l'ha anche eseguito con una certa intelligenza quel film lì nel senso che sì sì perché per esempio spoiler però le inquadrature finali che secondo me sono uno dei finali più belli che si hanno mai vissi e fu un'idea di Tommy Lee Wallace e poi anche diciamo quel linguaggio cinematografico non è che lo ha scimmiottato lo ha proprio fatto suo molto bene secondo me che è una roba che è successa anche a mi sembra un regista regista di di Psyco 2 forse che no qual è quello che ce n'è c'è uno Psyco dove dove che è diretto adesso io non mi ricordo mai i nomi che è veramente fatto molto bene perché esegue proprio adesso magari qualcuno in chat mi aiuta esegue proprio bene la scuola Hitchcockiana cioè non fa il secondo il secondo infatti ho detto giusto un grande fan di Hitchcock un grande fan di Hitchcock che però appunto esatto non è l'operazione del cerco di scimmiotare no gli piaceva e l'aveva capito poi è chiaro che maestro è maestro e lui però l'aveva fatto bene io ci ho visto più o meno la stessa cosa cioè una grande abilità nel capire la cosa e rifarla non cercare di ricalcarla che rischi di inciampare quindi molto film Richard Flank è un regista da rivalutare da riscoprire i suoi film australiani a parte Patrick che è abbastanza famoso ma c'è anche Road Games che pure è molto bello che è la finestra sul cortile ambientato in autostrada ah ok quello mi manca mi manca molto spizioso comunque sì tutti hanno sicuramente tanti hanno i meriti in questo film però poi appunto il capitano è Carpenter e là lui poi va al merito di tenersi bravi collaboratori ottime idee eccetera eccetera quindi quindi insomma Yablans datti una calmata perché c'ha i tuoi meriti però il film ti è infastidito insomma vederlo lì che si pigliava tutto sì sì Yablans piglia tutto va bene io passerei alla trilogia perché è un po' piccante questa cosa qua l'altra volta avevamo un po' iniziato questa trilogia che nasce te lo lascio dire a te perché io sbaglio sicuramente come sequel di del primo Halloween del primo Halloween sì e poi la saga di Halloween è un multiverso ci sono varie linee narrative questa qui ricomincia direttamente dal primo Halloween peraltro David Gordon Green voleva cambiare il finale del primo Halloween cioè voleva iniziale iniziare un po' negando quello che era successo alla fine del primo Halloween però John Carpenter ha detto no il film lascialo così com'è poi ricominciamo da lì e quindi hanno fatto questa trilogia che tra l'altro è produttore Carpenter quindi diciamo beh è stato produttore anche di tanti altri sì diciamo lui ha fatto più che altro l'uomo immagine oltre a fare la colonna sonora perché poi ci sono state delle discussioni iniziali ma poi il progetto l'ha sviluppato abbastanza tranquillamente con David Gordon Green allora io mi ricordo che il pubblico del primo Halloween 2018 insomma lo avevo percepito come divertente ma molto muscolare molto action movie poco atmosfera di atmosfera come poteva essere invece il primo no? cosa ne pensi? di questo primo diciamo Halloween 2018 forse è quello che mi piace un pochino meno dei tre anche se molti invece dicono che è quello che mi piace di più perché comunque rimane un po' più vicino alla forma è anche quello che aggiunge meno cose no? sì sì forse per questo è più conservativo sì vedo che cioè capisco che è nato da tutta una serie di compromessi che loro hanno dovuto fare perché non potevano farlo troppo diverso come aveva fatto Rob Zombie nello stesso tempo era passato un bel po' di tempo quindi bisognava un attimo riattivare l'interesse e quindi tornare un po' giocare anche un po' sull'effetto nostalgia giusto per non andare avanti senza che gli spettatori sappiano tu sei pro nel senso piaciuti quelli di Rob Zombie oppure assolutamente no così a me piace molto il secondo ok in generale comunque li approvi è quello che divide di più però comunque è un'operazione che non ti infastidisce questi questi di Rob Zombie cioè no vabbè diciamo sul primo ho pensieri un po' controversi anche perché esistono varie versioni del film però diciamo sicuramente ritengo che è un film su cui lui ha fatto dei compromessi che non ha fatto sul secondo però comunque Rob Zombie sicuramente è molto meglio di tanti che si sono avvicendati sulla saga nei decenni cioè almeno è un autore io ti dico io mi sono mi sono sentito insomma io mi ricordo che mi erano piaciuti mi avevano divertito non mi ero posto troppi problemi sulla somiglianza non inteso come somiglianza dei personaggi ma di atmosfere di mood non mi importava questo questo primo capitolo 2018 mi ha mi ricordo che ero abbastanza allineato con la massa che era sì divertente ma proprio action cioè nel senso è un film action di botte e cose così con poco horror inteso di atmosfera di tensione di anche quella tutta quella parte di stalking mi sembra che è molto meno incisiva no? del del perseguitare a livello proprio di osservare di che ma che è una delle parti fondamentali del primo del secondo sul 18 comunque sei abbastanza tiepido insomma non ti ha sì diciamo mi piace mi divertì appunto però era capivo che era frutto di molti compromessi anche questo e sul quello seguente che è Halloween Kills a me piace molto Halloween Kills come mai ti piace piace molto perché a parte che è violentissimo sì sì su quello sono d'accordo è divertente la parte splatter ci sono tante inquadrature anche molto belle sì devo dire ecco a livello visivo sono belli tutti e tre perché c'è una fotografia molto calda che ecco costruisce bene sull'eredità di Dean Candy sì su questo sono d'accordo io allora io il Kills l'ho criticato molto per come è scritto nel senso non mi sono piaciuto però ecco adesso non ricordo bene se l'ho visto in doppiato perché sai che nel doppiaggio vengono martoriati un po' i dialoghi e quindi no beh io lo vedi a Venezia che quindi lo vedi in lingua originale no beh è sicuramente abbastanza confuso a livello di scrittura però la visione di come il male finisce per espandersi in tutta la comunità e diventare appunto e lì è quasi un ritorno del male no c'è una reazione quasi come una reazione a un male no se parla molto anche ai nostri tempi che sono tempi di scontro sociale di di malesseri che si propagano nella società questi raggi atroci se mi consentite no ma ci può stare a me piace molto l'insieme più che i singoli ma infatti secondo me lo scontro dialettico su questo film è esattamente come dicevi prima cioè bisogna riuscire a capire quali sono le cose buone le cose cattive e che cosa c'è perché è un peccato buttarlo via tutto questo film perché non ti è piaciuto come sono stati scritti i personaggi che secondo me effettivamente sono un po' ridicoli in alcuni casi e anche i dialoghi sono un po' ridicoli perché poi in realtà ci sono delle cose belle come questa cosa diciamo di contenuto sociale che il film ha che non tutti i film si dedicano come per esempio essi vivono non tutti si dedicano alla politica alcuni si dedicano alle emozioni alcuni alla psicologia questo si dedica molto alla psicologia anche di gruppo di psicologia sociale ed è figo sono concordo con te io personalmente molto infastidito dai personaggi come Vittorio per come sono stati scritti e ti aggiungo poi mi dici la tua una Lori Strode così volgare così cafona non riesco a digerirla e anche nel terzo poi non l'ho digerita cioè non è come io Lori me la sarei immaginata cresciuta che era la ragazza rispetto alle altre due era la ragazza che era meno cafona era quella più che me la vedevo laurearsi e insegnare lettere al liceo oppure come in Alloghi vent'anni dopo praticamente eh l'interpretazione sì poi sì però sì il personaggio secondo me è un personaggio che va verso l'intellettuale comunque non proprio l'intellettualone ma la persona istruita la persona civile invece la Lori Strode di queste cose è quella che vuole il diritto ad avere un'arma vuole è la destromane americana è una incazzata è una Sarah Connor che non è brutta l'idea ma non è quel personaggio lì è quello che mi ha stranito beh ma sai diciamo prima dicevamo dei compromessi ecco anche questo è un altro dei compromessi su cui questa trilogia si è dovuta appoggiare cioè lo restro Gemini Cartis era rimasta molto delusa da come il personaggio si era evoluto in allo vent'anni dopo e quindi diciamo in certo qual modo hanno cercato un po' di andare in quella direzione cioè di una non impaurita ma che vuole combattere il nemico e però differenziando da come l'avevano fatto lì molto direi perché è piena di parolacce e cose cioè veramente io credo sia la signora anziana più volgare della storia della storia del genere no magari non fino a quel punto però cioè me la vedo io mi vedo una bella coppia di villain tra lei e la vecchia di X me le vedo che vanno a fare l'aperitivo insieme e poi ammazzano col cuo cioè non me la vedo come una buona capito è proprio anzi quasi mi fa un po' pena Myers nell'ultimo capitolo nel terzo nei commenti vedo parecchio una scelta di Jamie Lee Curtis stesse sono d'accordo passa il concetto di angry mob senza cervello ma è vero però il problema è che quello è un problema cioè non è che è un effetto positivo è l'effetto negativo di questa di questo male che si propaga e che infetta la stessa anche Laurie Strode nel primo dei tre Halloween ci sono delle scene in cui Laurie Strode rifà delle scene che aveva fatto Michael Myers nel primo come se lei fosse un po' il parallelo di Michael Myers c'è la scena quando cade dalla finestra quindi diciamo c'è l'idea un po' di questo male che finisce per contaminarti che poi appunto ci porta al terzo film il terzo film non so se tu magari tu non mi segui qua su perché poi questa è diventata la mia piattaforma prediletta io il terzo film è quello che apprezzo di più ti stupisce c'è la cosa sì penso che è stato molto divisivo io ho fatto una recensione di questo film che ha sorpreso tutti perché ho parlato sempre male ma in modo anche giocoso nel senso non mi piaceva questa saga invece questo mi è piaciuto perché questo film fa cinema questo film questo film rappresenta il modo di fare cinema cioè ti sorprendo non ti non ti sto riciclando la solita cosa e quindi qua cosa succede che viene creata una storia intorno a Myers e molti io come molti altri qua in chat eravamo eravamo raggiunti alla conclusione che questo film sembra quasi il proseguimento di Halloween 3 cioè Myers diventa di nuovo quello che voleva essere il progetto cioè il cappello delle storie dell'orrore quindi e quindi a me è piaciuto parecchio anche se trovo qui un po' di problemini di scrittura dei personaggi ma un po' corretti secondo me c'è stata una sorta di di autocritica alla fine del secondo e e poi vabbè c'è questa qua è tutto spoiler per chi sta seguendo quindi perché se no non possiamo dire niente no questa morte di Myers l'ho trovata quasi un dispetto nei confronti degli aventi diritto nel senso che i diritti tornano a come si chiama ACAD come si chiama ACAD il produttore del primo e quindi figlio ormai perché purtroppo il produttore è morto tragicamente in un attentato e quindi tornando a lui io l'ho detto anche ai miei spettatori i miei follower non pensate che la saga sia finita qua cioè i diritti valgono un sacco di soldi qualcosa ripartirà tra un po' perché son so è come avere una proprietà di valore che se la tieni ferma non fa niente se la fai se la sfrutti fa soldi che chi chiunque di noi tu se avessi diritti ti faresti 3000 seguiti di Halloween io penso proprio di sì però a me piacciono i finali per cui non lo so però sai si potrebbe riprendere il famoso progetto di Halloween 3 ah quello per me sarebbe l'ideale sfrutti il nome sfrutti il franchise e poi sai Myers lo infili dentro come flashback ogni tanto sì come tu Halloween 3 cosa perché è veramente un film molto stimolante secondo me no un film molto interessante infatti è originale mi ha sorpreso parecchio quando l'ho visto e questa è una cosa buona ti dico la verità mi dispiace un po' che nel finalissimo si torni un po' a fare la storyline principale perché a quel punto si è andato proprio spesso verso le nuove direzioni che il film ma infatti io ho avuto la sensazione che non c'entrassi un cazzo quel finale è quasi come appiccicato attenzione non andiamo troppo lontani è appiccicato come una una specie di di toppa no perché in realtà il film stava funzionando il problema è che non era Michael Myers il problema è che Michael Myers stava cedendo il la staffe la la diciamo il testimone e quindi avrebbe il film sarebbe dovuto finire in modo epico con il personaggio nuovo ma anche molto intrigante secondo me ma non ma non avrebbe insomma però questione di marketing di pubblico di fan base sarebbe stato per questo l'hanno già abbastanza massacrato perché c'è poco Michael Myers eh ma io sono abbastanza la morte definitiva io sono abbastanza la morte definitiva cioè io professo sempre che secondo me il cinema buono è il cinema che ti sorprende che non ti dà quello che è una è tendenzialmente chiaramente non è una regola però tendenzialmente se tu vai al cinema e rimani così già qualcosa ti è stato regalato perché hai pagato per avere per non avere la solita minestra e quindi già questo film in questo è qualcosa di buono cioè dovrebbero dal punto di vista degli intenti molti film dovrebbero prendere esempio da questo molti franchise secondo me e niente poi rimane il fatto che io odio la versione moderna di lori strutt con questi parolacce e poi non hai trovato un po' troppo forte questa lori rispetto a Myers cioè insomma anche lei mi aspettavo che andasse verso quella direzione no forte nel senso fisicamente forte fisicamente forte che un po' un po' troppo cioè io ho criticato il fatto che lei avrebbe potuto batterlo un po' meno fisicamente e un po' più di astuzia visto che Myers non è mai stato molto intelligente perché anche come va fatto nel primo anche nel primo ha i suoi momenti goffi no ai suoi momenti in cui in cespica in ciampa scusate fa delle cose quindi io mi aspettavo si lo batte un po' picchiando ma soprattutto usando l'ingegno perché comunque dovrebbe essere più forte di lei in ogni caso invece l'ho trovata un po' esagerata quella cosa la processione è piaciuta? forse un po' forzata forzata però a te piacciono i finali quindi sì però almeno che c'è un finale quindi insomma sei contento però c'è una cosa che dobbiamo dire se ti ricordi alla precedente live io avevo fatto una teoria cioè che per eliminare Michael Myers devi togliere la maschera sì me lo ricordo mai stata fatta perché tu dicevi che nel 2 quando era c'era un momento in cui senza la maschera sembrava diventare più debole no? sì alla fine del primo film John Carpenter lei gli toglie la maschera e arriva Loomis lui si rimette la maschera in tempo e Loomis si spara io ho sempre detto se fosse rimasto senza la maschera Loomis gli avesse sparato sarebbe morto ah ok ok questa è la mia teoria che Michael è completo solo quando è completo quindi anche la maschera addosso se gli toglie la maschera si perde quell'equilibrio che determina la sua il suo personaggio e diciamo questo film in parte mi dà ragione perché gli viene tolta la maschera sì sì e poi viene a morte l'ho trovato veramente trash però non lo so è meglio questa o la testa decapitata cosa preferivi? ebbè la testa decapitata era con la maschera ah ok infatti infatti quindi comunque tu comunque tu lo insomma ti sei divertito con questa trilogia quindi la provi io sono abbastanza ho una regola che io non sono contro nessun remake perché comunque il remake non rovina non tocca il film originale e come abbiamo potuto vedere hanno fatto 3000 cambi di linea appunto di storie storyline tu le descrivi molto bene nel tuo libro che invito tutti a comprare poi puoi arrivare lì e dire me ne frego e faccio una nuova saga quindi fondamentalmente i remake i trailer i sequel non fanno non fanno grossi danni anzi tengono vivo all'attenzione su un film io mi immagino dei personaggi di vecchi film di cui non esistono questi remake che sono nel dimenticatoio questo ce ne rendiamo conto no da tu che sei un esperto di cinema horror è così cioè senza queste queste operazioni commerciali il personaggio viene il film il personaggio viene dimenticato ma su questo di verità non sono completamente d'accordo perché comunque credo che l'horror sia uno dei pochi generi che ha con i suoi fanno un legame molto stretto i fan vanno a cercare comunque anche i vecchi film per cui credo che sarebbero però pochi perché sono pochi cioè guarda anche i numeri di chi segue l'horror le pagine i siti cioè siamo anche quando uno va bene e crea una bella community rimane comunque poca gente nel senso poi Myers è famoso nel mondo perché ci sono i remake sì diciamo tutti i sequel sì mi viene in mente un personaggio che è il dottor vibes presente quello con 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 il Vincent Price che ho scoperto in realtà un film che ho visto me l'ha passato mio suocero che è un critico cinematografico molto esperto di ich che così e mi ha passato questo film e ha detto ora ti ho comprato questo film che me lo ricordo è un bel film io l'ho scoperto tardi che come molte cose scopro tardissimo e mi sono reso conto che in realtà quel film lì è so so l'enigmista e quando l'ho visto ho detto guarda quel grandissimo figlio d'androcchia di James Wan non l'ha chiamato Fibes che ne so è proprio sei fatto tutto un suo personaggio però rapinando abbastanza palesemente il personaggio del dottor Thor Fibes insomma no quindi lui è dimenticato il povero dottore e invece so magari andranno avanti all'infinito a farlo oddio magari smettessere non sarebbe male eh sì anche perché poi questa operazione di Spiral mi sembra di capire che è proprio perché adesso stanno progettando un sequel ufficiale che segue il vecchio franchise e quindi questo Spiral è proprio stato un fallimento totale io ho smesso di vederli con quel capitolo finale appunto il finale che sì che erano molto molto clonati sempre più mosci sempre più sì sì mi ricordo che andai proprio all'ultimo l'anteprima con la rottura di balle ma anche se poi i marchi ingegni sono sempre simpatici in alcuni casi sì 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 ascolta io prima di lasciarti andare tu sei ancora hai ancora un po' di tempo? abbiamo qualche minuto qualche minuto dai allora io voglio parlare di una cosa molto molto bella che è il Monster Tarantor Film Festival che arriva quest'anno è appena finito alla edizione quinta edizione ed è un festival che porta dei bei titoli cioè dei titoli ricercati importanti e che purtroppo come funziona la ricerca di questi film quello che puoi dire chiaramente non svelare i tuoi trucchi funziona come funziona per i festival cioè c'è un gruppo di selezione che lavora nel vedere film in anteprima chiedendoli ai venditori internazionali ok e c'è un film che io ho visto di cui parlo spessissimo perché a me mi miro ed è qua quando un film bello non se ne parla e poi dopo esce che ne so la serie d'amer e tutti a rompermi le scatole con la serie d'amer e invece di amulet non si sa un cazzo ancora perché è un film bellissimo soprattutto cioè si chiede sempre il fan dell'horror ma anche gli altri ha sempre le solite storie ha sempre allora se ereditary è un'idea molto originale di esorcismo di esorcismo al contrario cioè di amulet che non voglio spoilerare è un'altra idea molto originale sul tema che non si era mai visto molto al passo coi tempi e che tu sai che fine ha fatto questo film no è un film che è molto superiore a tantissima roba che viene distribuita ma non è stato distribuito con grandi attori inglesi famosi è un bel film e l'ho scoperto proprio nell'edizione appunto perché Taranto è molto lontana per me io avevo seguito l'edizione online sì e anche quest'anno avete portato dei film interessantissimi tra l'altro noi qua li scopriamo molto in anticipo rispetto agli altri perché qua guardiamo tutto quello che esce all'istante trailer cose quindi li conoscevo e ci sono quello dei vermi che mi incuriosiva parecchio com'è che mi racconti qualcosa sui film di quest'anno beh diciamo quest'anno era la prima volta che avevamo il concorso quindi abbiamo cercato di fare una selezione dove fosse nel senso che erano solo altre volte erano solo proiezioni non c'era non ho capito la differenza non c'era il premio non c'era una tra virgolette competizione ok sì diciamo per usare un termine un po' volgare era una rassegna adesso è un festival perché anche quando fai partecipe ai bandi c'è questa distinzione se c'è il concorso è festival se non c'è il concorso è rassegna però ovviamente poi ha una struttura da festival anche se non c'era il concorso però adesso ha raggiunto la forma definitiva con il concorso quindi abbiamo sei lungometraggi a Taranto sì a Taranto e tredici cortometraggi e abbiamo cercato nella selezione di essere il più vari possibili perché comunque uno degli obiettivi che abbiamo fin dall'inizio è mostrare che appunto l'horror non deve essere solo di un tipo ma può essere vario fra loro quindi c'era per esempio un documentario un film un po' più raffinato un film un documentario un film un po' più grottesco come era appunto Jack Dappen full of worms e quindi il pubblico si è divertito anche per questo bello bello ho apprezzo molto il tuo festival e pochi altri perché vanno vanno a cercare cose che sono di nicchia ma sono anche di grande qualità tra l'altro Vittorio adesso una domanda se vuoi leggere hanno il quattro uno dei sequel tra i peggiori in assoluto volevo capire meglio le motivazioni di questa idiosincrasia ma ho detto l'ho trovato sempre registicamente quello più sciatto il quarto il quarto si è sempre l'impressione che ho avuto tanto a livello registico o di scrittura la saga di anno comunque ha sempre avuto una certa sua eleganza nella messa in scena appunto parlavamo prima di Dean Candy oppure di David Gordon Green anche il quinto per esempio che magari narrativamente è un po' più fragile però ovviamente c'è delle cose molto belle il quarto l'ho sempre trovato un po' più piatto però poi alla fine soprattutto nelle saghe in cui si crea un rapporto di affettività i gusti possono essere molto diversi e questo è ancora una volta come ci dicevamo prima anche un bene perché ci possiamo confrontare a voi piace a loro in quattro a me non piace possiamo tranquillamente parlarne e imparare reciprocamente magari voi mi farete imparare il bello che c'è in quel film e che non riesco a vedere no ma infatti ne approfitto per dire che comunque molto bella la chat belli gli interventi cioè si vede che siete una bella community vi faccio i complimenti sì anche perché è una community che qua appena entrano io e questo è uno cattivissimo appena entrano uno che fa un po' il cretino lo caccio lo banno cioè è molto selettiva perché è un punto alla massa perché la massa in realtà non ti porta a nulla secondo me bisogna puntare alla qualità è un gruppo solido di persone che hanno anche un atteggiamento costruttivo poi perché se uno ti segue solo perché tu gli dai ragione basta la volta che uno gli dai ragione non ti segue più quindi ci vuole anche un'onestà intellettuale che ti permetta anche di dire ok lui la pensa in modo diverso sì sì poi qua casualmente su Halloween abbiamo tanti fan su questo film qua è normale vedo fra i commenti che sembra quasi che a me non piaccia Rob Zombie invece no vi assicuro che vi piace allora spendi qualche bella parola è solo sul primo Halloween che mi sembra mi sembra il suo film meno personale ma comunque un bel film invece nella filmografia di stavo per dire discografia visto che è anche musicista nella filmografia di zombie qual è uno di quelli che ti piace di più diciamo a pelle anche proprio di gusto vabbè la casa del diavolo mi piace tantissimo poi io sono legatissimo alle streghe di Salem non mi piace davvero tanto allora io metto in chat il tuo instagram e spero che qualcuno di voi abbia la decenza di andarlo a seguire il monster taranto anche se non siete vicino a taranto così perché comunque non è importante sostenere i festival e poi non si sa mai che proprio in quel periodo l'anno prossimo siete lì vicino e andate al festival lo vedi le streghe di Salem la casa del diavolo Halloween 2 3 bombe siamo d'accordo bene dai almeno no perché è facile essere fraintesi perché in un discorso magari uno snobba un attimo una cosa e sembra che non ti piaccia niente no però vedi le streghe di Salem è un grande film però c'è tanta gente a cui non piace beh comunque il zombie non è che sia proprio un cane dirigere insomma ah ah secondo me il suo fattore al di là del fatto che poi magari può fare un film come il 31 che è praticamente senza storia è sempre la stessa roba sembra il clone di un altro altri 16 film però ecco quello che lui sa fare è metterci la sua mano vi posso dire perché l'abbiamo fatto a Monsters che visto al cinema quel film è potentissimo il 31? si si poi si perde cercate di vederlo su uno schermo il più grande possibile poi sicuramente siamo d'accordo che è più un divertimento è un film senza storia però visivamente è davvero potente si poi dicevo comunque lui ha una mano che non è proprio così scontato nel cinema anzi in un cinema poi che ti propone io scherzo sempre sui congiuriani perché c'è tutto un filone di film plasticosi di questo tipo che hanno stesso tipo di fotografia stesso tipo di cioè i cliché vanno oltre la storia vanno anche nel nel cioè tutto diventa un cliché in questi film anche i jumpscare la fotografia il montaggio le musiche tutto diventa praticamente conformato e con lo stampino escono questi film se un regista ha una mano io penso anche a occhiali neri che ha veramente 3000 difetti indubbiamente però cazzo c'è una mano questa cosa non è da sottovalutare che ci sia una mano che si distingue con tanta personalità è comunque qualcosa che secondo me è prezioso nell'arte nel cinema in generale assolutamente una battuta su occhiali neri piaciuto non piaciuto sì sì piaciuto tu sei abbastanza Dario Argentiano sì sì ti dico la verità quelli immediatamente precedenti non mi erano piaciuti molto che sono i suoi peggiori giallo però con occhiali neri Dracula 3D ci siamo divertiti Dracula 3D è il più diciamo deriso film della storia del cinema poveretto però non è stato capito anche poi c'era il tentativo di fare un film alla Hammer non riuscito molto bella anche la l'amantide in 3D l'amantide è fantastica non ci ho dovuto ho fatto anche una pagina facebook su di lì solo su di lì fantastico non lo so io sono molto contento di questa chiacchierata vi invito non so tu oltre all'instagram del monster dove possono seguire le tue cose scrivi su dei siti in particolare beh duels.it duels che è comunque ok quindi trovate sentieri selvaggi e duels trovate le recensioni di Davide Di Giorgio andate a seguire il monster tanto horror film festival comprate l'edizione con appunto il libretto scritto da Davide e niente ragazzi poi con Davide organizziamo anche altre live io sono qua anzi se volete salutare Davide questo è un momento in chat vi ringrazio tutti potete anche salutarlo donando questo canale che lui sarà contento con abbonamenti perché io penso che lui apprezzerà la cosa insomma date del bene a questo canale come potete intanto che li lascio salutare ti faccio l'ultima domanda Davide il film preferente di Lucione Fulci è bella sfida preferiti sono molto legato all'aldilà perché l'ho visto parecchie volte al cinema ho avuto questa fortuna però devo dire che sono anche molto legato a Zombie 2 bello bello combattimento con lo squalo è anche un altissimo momento di cinema pure quello aspetta anche quello visto al cinema Ravenna Nightmare Film Fest per citare Festival Amici fu una bella esperienza fantastico ti stanno arrivando anche i saluti eh bene vedo grazie grazie ragazzi li vedi sì li vedi in chat ci rivediamo sì sì assolutamente grazie sì sì no assolutamente tu sai io te l'ho detto io stremo tantissimo anzi approfitto per dirlo a te e lo dico anche come pubblicità mia interna io stremo martedì venerdì e domenica dalle 18 sempre poi faccio anche delle cose quindi se poi hai voglia puoi anche infilare veramente me lo dici facciamo una cosa al volo eh facciamo su film visto una cosa sei ben accetto grazie mille per essere stato qua grazie per insomma per aver condiviso con noi la tua saggezza e la tua cultura e niente alla prossima passione passione grazie mille ciao Davide ciao grazie ciao metto giù la conversazione e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao